Saludato Gesù Cristo Tirata arriva, i pescatori dividono i pesci tra buoni e cattivi. La differenza dei pesci ovviamente determina anche la destinazione finale. Dunque ci saranno i pesci buoni, quelli cattivi, i salvati e i condannati. Quindi quello che interessa sempre a noi è determinare l'importanza di quello che Gesù dice, lo dice anche facendo riferimento allo scriva che è diventato discepolo del regno. Lo scriva è l'esperto della scrittura che ascolta il Cristo, che è la parola di Dio vivente, e dunque può in questo modo trarre dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. C'è dunque un aspetto di antichità in questo, il giudizio di Dio, e di novità che è quello che riguarda il momento del giudizio e il giudizio finale. Noi lo controponiamo, secondo l'insegnamento del Cristo, al giudizio individuale. Qual è dunque la differenza tra quello finale e quello individuale? Così pure nell'ultimo giorno viene riportato quello che è l'operazione della assegnazione di un corpo risorto. C'è dunque un tempo intermedio in cui il giudizio viene sospeso e il corpo risorto non viene dato. Sembrerebbe, al di là della questione che viene molto debattuta da tanti anni dai teologi, sembrerebbe che il Vangelo indichi due momenti differenti, fra giudizio particolare, individuale e quello universale, e dunque anche con l'attribuzione della resurrezione all'ultimo giorno. La resurrezione dei corpi indica una completezza dell'evento di salvezza che viene distribuito lungo una serie di passi come un processo per cui l'anima gradualmente avanza e merita di entrare in uno stato superiore a seconda appunto di quello che ha fatto durante la vita. Come prima di Cristo le anime dei giusti attendevano nel regno dei morti, che non è l'inferno così come noi lo pensiamo, l'arrivo del Cristo che durante la sua morte fisica sulla terra, nella sua permanenza al sepolcro, scende agli inferi e prende i giusti per mano e li porta nel suo regno. C'è dunque già qui un'idea di provvisorietà che viene sostanzialmente sciolta da questo evento unico e centrale che è la morte di Cristo sacrificale, dunque la salvezza dei giusti. I giusti sono in attesa di qualcosa di più. Sono nel riposo ma entrano in una situazione di beatitudine che è quella del paradiso. Oggi sarai con me in paradiso, dice al ladrone pentito Gesù dalla croce. Questo salto di qualità dunque sembra non essere l'ultimo, ovvero ci sarà un tempo di risurrezione con un completamento del progetto di Dio Padre sull'intera umanità e sul creato. Dunque la vita sulla terra è il luogo e l'immagine al tempo stesso di quello che costituirà il regno di Dio, il regno dei cieli. Il giudizio finale fa capire che tutto quello che avviene sulla terra ha un processo molto lungo di giudizio e soprattutto di purificazione. Quando noi parliamo di purificazione dunque pensiamo sempre, dobbiamo sempre pensare a tutte le anime che vengono poste in una situazione di possibilità di redenzione, di santificazione che noi chiamiamo purgatorio e che la Chiesa ha definito non un luogo ma uno stato e questo è molto interessante. Una situazione in cui le anime sono poste davanti a Dio, alla verità e alla possibilità di riconoscere il Cristo che sulla terra forse non hanno mai incontrato o di conoscere in profondità sapendo realmente chi è il Cristo, chi è Dio, perché quando siamo di là tutto sarà nella chiarezza. Un cuore non malvagio ma peccatore avrà dunque la possibilità di completare passo dopo passo la sua purificazione, quello che noi chiamiamo purgatorio, che non deve essere una situazione assolutamente né lieve né desiderabile. Tuttavia è una grazia che Dio dà e concede in virtù della salvezza che il Figlio ha dato a tutti gli uomini. Coloro che invece saranno impenitenti fino in fondo saranno invece rigettati come i pesci cattivi. Dunque il processo di maturazione delle anime e di purificazioni comprende tutto quello che è la storia dell'umanità dal primo all'ultimo uomo in uno stato o in diversi stati, situazioni delle anime qui sulla terra e dopo la vita sulla terra. Ma tutto quanto si concluderà in un tempo altro che diventerà dunque definitivo con il giudizio finale. Il giudizio particolare dunque appartiene a quelle persone che passano la vita di là e rispondono al Cristo del loro comportamento. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, dice Gesù. E dunque tutti devono compiere un processo di santificazione quando avvedranno in Cristo e riconosceranno la sopra di misericordia verso l'umanità. Ed è misericordia essere purificati. Cioè l'espiazione, la punizione per il male fatto ci permette in un modo diverso di raggiungere quello che è sulla terra invece può essere raggiunto in un modo più veloce. Ecco dunque che questa rivelazione del giudizio finale deve toglierci dalle ansie di quelle che chiamiamo le giustizie immediate di Dio che diventano anche bestemmia dove Dio se permette questo o cose di questo genere. Ci toglie dunque da un'idea stretta e angusta di misericordia e di giustizia di Dio che operano invece in un tempo lunghissimo che non è il nostro ma rimane nostro perché quando passeremo da questa vita entriamo in un'altra dimensione con altre situazioni, possibilità diverse e senz'altro più limitate perché più c'è consapevolezza andando di là e meno c'è possibilità di essere scusati. Padre perdona costoro perché non sanno quello che fanno perché questa consapevolezza si raggiunge quando si entra nel mondo spirituale allora non ci saranno sconti. Ma qui abbiamo tanta, tanta possibilità di meritare scegliendo sempre il bene la carità verso il prossimo e soprattutto per chi sa crescere nell'amore verso Dio che è il primo dei comandamenti e che fonda anche l'amore vero per il prossimo. Dio vi benedica.